Alvia è un weekend dedicato allo sport e alle associazioni sportive della nostra città attraverso un evento istituito dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2003. Il Comune di Pordenone ha voluto che questa giornata si svolgesse a inizio settembre, proprio per dare maggiore visibilità ai tanti sodalizi che stanno per iniziare la nuova stagione sportiva. Sabato 9 alle 18 tutti in piazza 20 settembre per il Galà dello Sport, in cui verranno premiati 400 atleti che lo scorso anno si sono distinti con importanti risultati nelle loro discipline. Sarà un momento di soddisfazione non solo per loro, ma anche per le società sportive che tanto si adoperano per la loro crescita. Domenica 10 settembre al parcheggio Marcoline all'imbarcadero si potranno visitare per tutta la giornata i 60 stand delle associazioni, in cui trovare informazioni sui corsi in partenza per la prossima stagione. Qui i più giovani potranno provare tante discipline e magari iscriversi a quella che piace di più. Per tutti ci saranno dei coloratissimi gadget messi a disposizione dal Comune. Pordenone ha la fortuna di avere un altissimo tasso di sportività, questo è testimoniato dalla presenza di decine e decine di associazioni che si impegnano quotidianamente nelle più disparate discipline. È una ricchezza, è un patrimonio che va costruito e va preservato, perché fuori da ogni retorica queste associazioni sono quelle che tengono i nostri figli in un ambiente sicuro e gli fanno fare sport. Sport vuol dire salute, sport vuol dire inclusione, integrazione, divertimento e magari anche raggiungimento di obiettivi e traguardi insperati. Queste associazioni si basano quasi esclusamente sul volontariato, quindi la festa dello sport è un modo per metterla in vetrina e quindi consentire di incontrare i ragazzi, spiegargli le loro discipline e magari anche invitarli a partecipare. Ed è anche un modo, ripeto, per ringraziare del lavoro immenso che viene fatto ogni giorno, atleti, tecnici, dirigenti quotidianamente a disposizione, non per lucro ma per l'amore dello sport. Questa grande festa dello sport, che è una festa nazionale data dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2003, prevede proprio di portare in piazza le nostre situazioni sportive che si confrontano tra loro e che percepiscono di vivere su una situazione molto particolare, Pordenone, perché o l'assorato dello sport, ma anche con l'appoggio del nostro sindaco Alessandro Ciliani, il mondo sportivo ha un posto rilevante. E dunque portare in piazza le nostre situazioni sportive con tutti gli atleti che abbiamo a Pordenone, che sono veramente tanti, di tutte le pratiche sportive, è un modo di confronto per crescere insieme. Crescere come? Avendo informazioni. Ecco che i genitori del mandamento pordenonese possono andare in piazza a prendere informazioni delle sue sportive, dove hanno la sede, che orari praticano, quali sono gli istruttori, quante specialità praticano in pratica o professano. e dunque portare a conoscenza del mondo giovanile, ma anche delle famiglie, cosa fa Pordenone nel mondo sportivo.